Arriva dal consigliere regionale Boris Rapa la richiesta di un nuovo modello di turismo per tornare più forti di prima. Da parte del consigliere viene infatti richiesto un pacchetto di misure per far ripartire le imprese turistiche. Oltre alla crisi post-Covid-19, ha detto Rapa, occorre adottare nuove regole ma anche un nuovo modello economico turistico. Siamo in un'emergenza globale mai vista prima, un'emergenza sanitaria che sta devastando i nostri territori. Chiaramente il punto principale di interesse deve essere questo, cercare di concludere e terminare nel migliore dei modi questa emergenza sanitaria. Al contempo però bisogna anche cercare di trovare delle formule per affrontare quello che verrà dopo, ossia la più grande crisi economica mai vista prima. Il turismo è uno di questi settori che è messo completamente in ginocchio e che subirà le conseguenze più gravi. E' per questo che confrontandomi con imprenditori, con alcuni amministratori, stiamo cercando di creare delle proposte, un pacchetto di proposte da sottoporre alla regione, in particolar modo all'assessorato il turismo. La strategia deve essere chiaramente una. Primo salvare le aziende. Secondo ristrutturare l'offerta. Terzo rilanciare la domanda. La prima cosa da fare è quella di confrontarsi con i servizi sanitari per analizzare e riscrivere le procedure relativamente alla sanificazione delle strutture recettive e a una revisione delle norme igienico-sanitarie legate all'ospitalità. Perché chiaramente dopo questo virus il mondo cambierà completamente. Bisogna anche pensare a una comunicazione. Una comunicazione di racconto dei territori, ma soprattutto cercare con delle analisi concrete, analizzando i flussi di entrata dei mercati, quale possano essere le zone in cui promuovere la nostra bellissima regione. Serve uno strumento che metta in modo la premialità edilizia, in caso di accoppamenti di attività, ma soprattutto velocizzare l'attuazione dei decreti attuativi che possono generare liquidità alle aziende immediata. Penso anche a un sostegno e un rilancio dei tour operator e delle agenzie regionali, perché sono quegli intermediari del nostro territorio che riuscirebbero meglio a raccontare il loro prodotto. Servono maggiori fondi anche per le attività di accoglienza una volta ripreso il tutto. Serve sostenere il comparto enogastronomico della ristorazione in primis, cercando di dargli dei fondi speciali, ma anche con una comunicazione legata al territorio e all'ospitalità. Pensare a un progetto di comunità ospitale, un modello innovativo dell'offerta turistica. Ci sono anche poi delle istanze da portare a livello governativo. Penso alla possibilità della detraibilità fiscale di spese turistiche e della dichiarazione di redditi, oppure della possibilità per i proprietari e i gestori di portare a credito l'imposta alla mancanza di riscossione di eventuali affitti di azienda. Per i balneari l'abbassamento dell'IVA al 10% o la risoluzione della direttiva Bolkestein. E' un altro tema indispensabile e importantissimo è quello legato al tema del lavoro. Servono misure straordinarie e flessibili per cercare di non perdere nessun posto di lavoro in tutto il comparto. Insomma, bisogna trovare un nuovo modello di sviluppo turistico. Le nuove frontiere sono le destinazioni minori e penso che a vincere la nuova sfida saranno i comparti ontologicamente più empatici. Il viaggiatore post-Covid-19 sarà perfetto per le micro e piccole destinazioni, dove gli stili di vita sono ancora autentici e questo è tipico della nostra regione.